Avrà luogo in piazza Sorella Arduino a Scoglitti la prima festa cittadina del Lauser, associazione di volontariato che si occupa degli anziani, cercando di organizzare attività che li mantengano attivi e regalino loro momenti di svago e divertimento. La manifestazione è uno degli appuntamenti previsti nel programma dell'Open Village. L'evento i colori della solidarietà si svolgerà giovedì 6 agosto a partire dalle 18. Il programma prevede antichi giochi popolari siciliani, gare di tiro alla fune, corsa con i sacchi per nonni e nipoti con la premiazione dei vincitori. Inoltre è prevista l'esibizione del Cantastorie Giovanni Vigra Davola e alle 21 uno spettacolo che vedrà alternarsi sul palco poeti, cantanti, band, ballerini, soprani e tenori con le musiche del maestro Danilo Ferro. In piazza saranno installati anche alcuni gazebo nei quali si potranno degustare pietanze tipiche locali e si potrà visionare il materiale informativo relativo all'attività dell'associazione. Grazie a tutti.